Signori così finisce la settimana solo Iris, quindi io vi chiedo assolutamente di mettere un big pollicione in su per cosa siamo riusciti a fare e consigliarmi nei commenti il prossimo brawler che vorreste vedere per una settimana intera durante il streaming del canale Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars Allora signori, oggi è lunedì, almeno quando sto registrando questa clip, voi probabilmente la vedrete Forse sempre di lunedì, però vabbè, non so cosa succederà in questo video perché questa è una nuova settimana solo un brawler Dopo il successone di una settimana solo Pam, ragazzi, arriviamo, come vedete al titolo, alla settimana solo Iris E' già qui, è già pronta ragazzi, è sulle 549 cop, proprio per non droppare la fine season E' solamente il rank 21, è l'unico brawler rank 21, gli altri sono tutti quanti almeno il 25 E l'obiettivo è portarla almeno al 25, anzi, anche qualcosa di più si spera Vedremo un pochettino che cosa succederà durante l'arco di questa settimana Come sempre questi video, per me li conoscete, avete visto un episodio Quindi ragazzi, io direi di non perdici in chiacchiere e cominciare subito Come iniziamo a push a un brawler? In showdown, mi sembra... No ragazzi, è che le missioni di oggi sono, come vedete, in showdown E quindi comincio appunto in showdown Per me di cominciare, ragazzoni come sempre, pollice nelle su, d'obbligo Mi raccomando bombardate il tasto di mi piace E ovviamente, in fondo, allo shop, il codice ferre che è super super importante, ve lo ricordo sempre Vamonos, partiamo Prima partita da SD Playa Tutta da SD Playa Oltretutto, ragazzi, siamo in questa nuova mappa, molto molto carina Siamo contro questa Ems, che non è per niente carina, no, non ci voglio Prima partita Martedì, ragazzi, eccoci qua con il secondo giorno Allora, al momento attuale, ieri si sta sulle 600 coppe Non è che abbiamo fatto un push incredibile Ieri abbiamo cominciato a fare giusto un paio di coppettine Ci mancano ancora un 150 coppe per raggiungere almeno il rank 25 Che è proprio il minimo che spero di raggiungere in questa settimana Allora, andiamo a vedere un attimino le coppe Perché comunque sia, anche se sono poche All'omento attuale, è nella top 10 dei brawler con più coppie sul mio account Visto che praticamente, oramai sto pushando un brawler alla volta L'unico brawler che ha un po' di coppie sul mio account in questo momento è Pam Che vi ricordo abbiamo fatto 900 coppe Se vi siete persi i video, andate a recuperare Iniziamo col push di oggi Vediamo un pochettino cosa riusciamo a tirare fuori E insomma, ci rivecchiamo Come al solito O con un match dei migliori Oppure direttamente con mercoledì Cosa fai? Cosa stai facendo? Ma perché? Ma che senso? Non se lo aspettava Attacco ninja da dietro Con 10 di vita Senza palla Nello scopo Ninja, ninja Per farci perdere la partita Ninja c'è Perché se perdi Dobbiamo farne un altro Perché non si è a 700 E di sì, è importante Dai, fai tila che subarle Oppure E no zio, ero privo di vita Ero privo di vita Zio dai, mi si sta pure scaricando la cuffietta E io pianterei lì Mercoledì Signori, oggi giornata molto particolare Perché non pusherò il brawler Ieri è andata molto bene Se notate siamo a 701 coppe Quindi ci siamo sparati 100 coppe anche ieri A mani basse Giovedì Signori, rieccoci qua Pronti per cominciare con una nuova giornata Sicuramente la giornata più importante Perché qua Si prova seriamente A superare le 700 coppe Ieri con mister Francamente non me la sono sentita Di scendere di nuovo sotto le 700 Quindi ho preferito Non giocarci con lui Sì, ci sta, ci sta, ci sta Signori, il rank 25 è nostro Il rank 25 è nostro, signori Vai così Il giovedì Passerà la storia Venerdì, signori Siamo messi molto bene Come avete visto Nella clip precedente Siamo riusciti A raggiungere Il rank 25 Con Iris Con le prime difficoltà Adesso proviamo Ad azzardare Qualcosa di più Eeeh Vabbè Ma flexa un po' meno Torretta, torretta Vado Hai visto che Flexava quella lì Ragazzi Io questi qua li voglio battere Solo perché C'ha la La skin d'oro Tun 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 Zizi Arrivo di testa Arrivo di testa Resisti 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 John Resisti John Boom Ah erano in due C'è un Carlo lì a destra Occhio Chizzino Ah un famone Zizi Oh c'è Carlo Oh c'è Carlitos Killalo Killalo Zizi Torretta, torretta Fratelli, fratelli Torretta Bravo Vai, vai, vai Che vado bomba Sì, 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 sì E qua, è qua Eeeh Vabbè ma sta doppia Torretta è già pronta Raga Quel Carlo Mi ha già affidato Tanti quelle ulti Vamonos Ciao Piper Boom Di nuovo Again Dai, dai Che abbiamo già Tutte la ulti Occhio Carlitos Perché è sicuro Viene a pushare Carlitos L'ho visto Un po' troppo convinto E più che altro C'è anche un po' troppa vita Per i miei gusti Faccio un giro da sinistra Ok Ando stanno Eccola lì la doppia No, doppia no Però una l'ho fatta Molto bene Ragazzi Sta parita qua È perfect Dai che sta parita qua La metto nel video Sta qua è la partita Della vidas Vai, vai Ok Lì ce n'è uno Che però se lo gestisce Lui tranquillo Altra kill pulita Madonna ragazzi C'ho più stelle sulla testa Vado a una galassia Una galassia Dai Ancora uno scattino Vai Mamma mia Ferre Non mi vorrei Perfectare una partita Con le ulti Ma sei Ma sei tu Forse impazzito Ma sei tu Forse impazzito Perfettiamo Sia le stelle Che Che le ulti Vabbè Vado a schiantarmi Contro un muro Eh Buono Perfectata Eh La skin gold Ce l'abbiamo Vedo Sì 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 Vai tirare la skin gold Flexala Flexala Eh Bastonate Bastonate Zizi Non ti ti pare Ragazzi Oh comunque sia Seppur con un po' di rischietto Come piace noi Aspetta eh Che canto vittoria Troppo presto Come sempre Ok Benissimo Ora la canto Ora la canto Signori Il rank 26 L'abbiamo fatto 800 coppe con iris Si decolla E ragazzi Anche il rank 27 Abbiamo raggiunto Belandi Ok signori Ok Abbiamo incontrato Rabbia Alla fine Ce l'ha lasciata Proprio sul più bello Però signori Anche Le 900 coppe Rank 28 Sono state raggiunte In questa settimana Solo iris Siamo sulle 918 E mi comunicano Dalla chat Che vabbè In Italia Siamo In top 10 E questa è tanta roba Ragazzi Ragazzi Dai Dovemmo fare Il rank 30 Su Per favore Siamo gli unici E invece Per quanto riguarda La top Mundiale Siamo in In posizione 189 Ci sta Ragazzi Difficile eh Fare dei casini adesso Tolta pure la testa Di tic Va bene Va bene Onesto Onesto Chi era sto qua Soi De Brenna Soi De Bresa Soi De Bresa Soi Soi Ermetal Va bene Tirato giù anche lui Comunque fammi un attimino Fare la chiusura Zii Ultimi 10 secondi Abbiamo incontrato Della gente che conoscevamo Li andiamo a salutare Tutti Ragazzi La community Oggi si è riunita Tutta quanta Questa sera Qua in live Con noi Abbiamo Altair Betto Daka Malata Moon Che è qua con noi a giocare Abbiamo Fadone Che ci spara Pugato Nation Ciao Fadone Grazie mille Abbiamo Giulia Random Mr.DLS Saif E il buon Rabbi Un saluto a Mark Ad Altair E a Vinci Che addirittura Abbiamo trovati E forse Con appunto Vinci Altair E anche Kids Non so se c'era Comunque anche Kids Ho fatto tra le partite Più belle Di questo rank 30 Ragazzi Rank 30 Impressionante Addirittura Senza Mauri Senza Mauri Pure lui Gengiati Li mando un bacione Grandissimo Cose incredibili Veramente Un'emozione Fare sti cacchi Di proprio Rank 30 Soprattutto per una Pi faccia Come me Ragazzi La settimana Sono Iris E' partita Malissimo L'ho vista I settimane Partite male Ma quella di Iris Tribunavamo A fare le 600 coppe Poi è uscita fuori Sta tecnica Dal nulla Da 750 A 1000 In un giorno Signori Oltretutto In questo push Che ha Dell'incredibile Abbiamo anche Un ospite speciale Che Già da un po' Che gioca con noi Però E' anche ospite speciale Oltretutto Perché C'ha questa bella Iris Al rank 35 Quindi C'è anche un episodio Di Master Brawler In questa settimana Solo Iris Ragazzi E' una settimana potentissima 26esimo Il mondo Ma cosa mi stai raccontando Ma cosa mi stai raccontando Sabato Signori Penultimo giorno Di Iris E come potete vedere Oggi iniziamo Con il botto Ieri è stata una giornata Come avete visto Veramente Incredibile Abbiamo fatto Più Di 250 Coppe Siamo Oltretutto A 1011 Perché Con la mappa Che c'era ieri Avevamo anche Azzardato Un rank 31 E veramente Le stavamo vincendo Tutte Però Un po' Per il tempo Un po' Perché quando C'eravamo quasi Ne abbiamo persi Due di fila Abbiamo fatto Che dire No basta Non ci stiamo Veramente esagerando Oggi ragazzi Giornata Un pochettino Più tranquilla Perché Ci sta La Brawl Championship Quindi Inizierò A giocare Le partite La Brawl Championship Visto che questa Settimana solo Iris Ovviamente lo farò Solamente con Iris Domenica Ragazzi Questa parola Non è mai stata così bella Ultimo giorno Di push Con Iris Ieri ci siamo sparati Tutta quanta La Brawl Championship E poi Powerplay Quindi insomma L'abbiamo tenuta Occupata così Ieri siamo riusciti A tenerla ferma Ragazzi Concludiamo Questo push Nel modo più bello Possibile Alcuni Diciamo che ci rimarranno Un po' male Una bella Partitona Con i random Oh yes ragazzi E andiamo a giocarcela In cantiere Pagonos With the randoms Vediamo un pochettino Ragazzi lo so È un suicidio Però Tanto ormai Al rank 31 Non la faccio Se perde Un meno 10 Quindi scialla Due Ok ne ha trovato uno Aiuto Ho paura 3 4 Ma trovai il random Anche dall'altra parte Attenzione Che forse Non è detta L'ultima parola Eh Se riusciamo a vincere Questa partita qua Ragazzi Vediamo un pochettino Attenzione Attenzione Ma dai dai Magari non è Non è così male Magari non è così male Vediamo un po' Eh che cacchio Non è facile raga Mamma mia Vai Signori Questa partita qua Sarà molto Molto tosta Eh c'è già un robot Che sta arrivando Possiamo difenderlo Abbastanza bene Arriva la ulti Brock Qua mi hanno fatto Un po' male Eh 14 16% Con questo loro Primo push Vediamo cosa riusciamo A combinare noi Vediamo se riusciamo A recuperare Diciamo che I miei compagni Non sono propriamente Fortissimi Da quello che vedo Almeno rispetto agli altri Soprattutto Ok Buona Tolta Pam Vediamo se riusciamo A gestirci quel Gale E no ragazzi Niente 38 di vita Eh no ragazzi Non voglio dire Però mi sono capitati Anche dei random Che sono più scarsi Dei quelli Contro Contro i quali Siamo finiti Eh sì raga Cominciamo già a trovare Le scuse Start una partita Mille coppie Con i random E poi trovo ancora Le scuse Ma noi ci crediamo Noi ci crediamo Giampa Usa il gatto Fai qualcosa Zizi Qua ci one pushano Ci one pushano Ragazzi Sto male E niente signori E' andata Contro l'ispettativa In sconfitta Però dai Me la volevo togliere La soddisfazione Di fare una Una partita qui Random A rank 30 Ragazzi Meno 11 Come potete vedere Andiamo sulle mille tonde Quindi il drop Di fine season Non cambia Giusto per la cronaca Questa sì Sarà l'unica partita Che farò con i risoggi In realtà no Perché ho già fatto anche Quelle in power play Ah Così 14esimo mese di abbonamento Per randomone Signori così finisce la settimana solo Iris Quindi io vi chiedo Assolutamente Di mettere un big pollicione in super Cosa siamo riusciti a fare E consigliarmi nei commenti Il prossimo brawler Che vorreste vedere Per una settimana intera Durante le streaming Del canale E non solo In realtà anche i video Perché come vedrete Nei giorni a venire Ci sono stati Tanti contenuti Dove la settimana solo Iris Ha influenzato parecchio Un saluto a tutti Ciao belli Grazie a tutti Grazie a tutti